È un'azienda di Assago, alle porte di Milano, che si occupa di illuminazione e arredo urbano. È un'impresa piccola in cui con padre e figlio lavorano tre dipendenti, ma ha illuminato anche Via della Spiga e il cortile della Basilica di San Paolo, a Roma. Ora è ferma da più di un mese per il coronavirus. Non mi piace il termine tristezza, perché non è un ambiente triste, però è una ferita. È innegabile che vedere anche le cose ordinate al proprio posto, ma sempre lì, riproducono un sentimento comunque di dolore. Adesso, con i dipendenti in cassa integrazione e tra mille problemi, si attende con trepidazione l'autorizzazione a ripartire. Le idee vanno avanti, quindi ci sono due prodotti nuovi che abbiamo anche voglia di... insomma, su cui abbiamo voglia di iniziare a lavorare, ecco, non solo sulla carta. Il forzato stop è stata però anche l'occasione per riflettere insieme ad altri sull'essere imprenditori guardando al Magistero di Papa Francesco. Penso di essermi accorto, è un pensiero mio, che la rivisitazione dell'economia in chiave di centralità della persona sia il messaggio che il Papa abbia lanciato in maniera universale. Quindi anche solo pensare che l'impatto delle regole di sicurezza avrà nelle nostre aziende richiederà un'attenzione ai dipendenti diversa da quella di prima è già un passo avanti. Non che prima non ci fosse, ma qui c'è un'evidente indicazione a cui nessuno potrà venire meno.